E' bello ragazzi per i PIRLASV E benvenuti in questo nuovo video PIRLASV No 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 avete sbagliato il canale No questo è PIRLASV Oltre che fare un video sul nostro canale siamo qui per romperti il culo Sui go kart capito cazzo E rifacciamo l'intro come si fa nel tuo canale La intro E benvenuti in questo nuovo video Quest'oggi andremo a sfidare PIRLASV, PIRLASQ Tutta la famiglia ai go kart Però oggi sarò io a sfidare voi E non voi a sfidare me Yeah Siamo qua alla pista dei go kart di Castelfranco e dell'Emilia La migliore in Emilia Romagna La migliore in Emilia Romagna La prima in Emilia Romagna E quest'oggi sfiderò PIRLASV Sei pronto a fare figure di merda sul tuo canale? No 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 siete pronti voi ad essere Demonetizzati? Aia aia Dopo il riso col pollo la prossima ricetta Sarà riso con la polvere quella che ti faremo mangiare oggi Esagerato Dicono tutti così Esagerato Ok ragazzi la sfida di oggi consisterà nel Una gara secca Tre giri Gara singola Tutti contro tutti PIRLASCrew contro OfSamuelCrew Che entrino in scena le squadre Let's go Let's go Sono Pienino capo del team dei PIRLASV Come vedete nuova maglia Come nuovo vincitore Su questo canale Ovvero noi E faremo stare zitto Samuel Una volta per tutte Sono Gnabry E purtroppo mi tocca filmare Ma come è? Ma Michael pronto per vincere Non parla tanto È normale ragazzi Sono Eddie E vincerò io Il vostro rumen Ragazzi Dai che quei italiani lì Non hanno capito che Noi vinceremo Forza Africa Tu lo sai no? Signore e signore Benvenuti qui alla finalissima Quattro contro quattro Vediamo chi vincerà Dopo aver fatto una Intensissima Ma intensissima Gara di giro Per vedere Chi arrivava Primo Secondo E terzo In pole position La finalissima signore e signori Che non potete perdermi I piloti si sono Riscaldati tutti Con un po' di riso E un po' di pollo Ovviamente per i neri E i piloti bianchi Invece un po' di tortellino Alla panna Attenzione Attenzione Guardate La tensione nei loro volti Siamo nei cancelli I piloti si mettono in griglia Ed ecco i primi dei piloti Che si mettono in griglia La tensione nei loro volti E' qualcosa da dire Bravissimo Che cosa da dire Ottimo Grazie Signori e signori Siamo pronti A questa attesissima Finalissima Of Samwell Of Samwell crew Contro Pirla Preparatevi a vedere Chi vincerà questa finalissima Signori e signori Prepariamoci Prepariamoci Urlo di gloria Passa in mezzo Gabri Passa in mezzo Fate un urlo di gloria Signori e signori Dai 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 Andiamo Andiamo Stiamo pronti Stiamo pronti Andiamo davanti Ok Al mio 3 Siete pronti? Piloti? 3 2 1 Via Attenzione 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 Ci facciamo uno sopra l'altro Attenzione Vediamo chi sarà fuori pizza per primo Attenzione Ciaciacobombo è l'ultimo Ciaciacobombo è l'ultimo Sento l'odore di fumo da qui Sento l'odore di fumo da qui Mamma mia signori Guarda Guardate quanto sono agguerriti Guardate Guardate qui Che bel di Che bel di assassino Attenzione Noo Noo Rientra rientra Bravissimo E riuscite a rientrare Bravo 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 A quanto pare Quello che è uscito fuori pista Non ha mangiato abbastanza il riso con il pollo stasera E' per quello che è uscito su questo Non ha mangiato il riso con il pollo Attenzione Vediamo il primo Il primo Il primo che arriva E' stessa così E' il secondo E' il terzo E' il quarto Andiamo 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 Signore e signore Purtroppo hanno tutti dei caschi in testa Quindi non riesco a capire se sono bianchi o neri Non riesco a capire se sono bianchi o neri Sembrano tutti uguali Attenzione Ciciabommu Ciciabommu Si vabbè E' Romania Però se vado a piedi vado meglio io Ma non ho capito Attenzione Mamma mia Mamma mia Quanta attenzione Guarda Attenzione 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 Vediamo 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 Il primo posto E' il secondo posto signore e signori E' si penso di si Eh Quindi Al 26 Dò la bandiera E' il primo E' In tre giri Esatto In teoria si Facciamo quattro Ok dai facciamo quattro Facciamo quattro Tu sei un fratello Tu sei un fratello Attenzione Quattro giri Appena passa il 26 E' finita E' finita Attenzione 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 E' l'ho sorpassato E' l'ho sorpassato Signore e signori Quello che era primo Si è fatto superare da quello che era secondo Ultimo giro Ultimo giro Ultimo giro Ultimo giro Attenzione Vai a piedi Fai prima Questo è Freeman E' il vincitore E' off somewhere Fino a gara Secondo posto Power Nelson Vediamo il terzo classificato Il terzo classificato Il terzo classificato Terzo classificato Michael Vamo E poi Pierino E' di nuovo Eh no Bucchino a falso Non so a chi capo Two hours later Ma hanno capito che basta? Hanno capito Ok Attenzione Attenzione Adesso andiamo dal vincitore Che ha fatto un sorpasso clamoroso Ok Sorpasso clamoroso Tu eri il primo Eri il primo Sei stato il primo Per ben due giri di fila All'ultimo giro Si è fatto superare Perchè? Perchè? E' stato lasciato vincere Perchè? E' stato vincere? Si? Si ma vaffan Signore e signori Abbiamo qui il vincitore Mi dispiace però Il vero campione E' off somewhere E vince la squadra Di off somewhere Questa per finalissima Non li batto solo su Pellasù Ma anche su off somewhere Let's go C'è da dire che lui Era già venuto prima A provare go kart Io la prima volta che ero qua Come la mettiamo? No No Ok Ragazzi Ragazzi non voglio scuse I perdenti Dicono che hanno perso I vincitori Hanno vinto Signori e signori Ti va bene che non hai corso? Ti va bene che non hai corso? Scusate Scusate Mandatelo a In bochinafaso dove Sei stato veramente bravissimo Mi sei piaciuto Sei uno dei miei bianchi preferiti In questa gara davvero Non è per fare lecchina Nel senso No davvero davvero Però Si si Il colore della pelle è influenzato in questa gara Il colore della pelle è influenzato E Da cosa dici Questo scusa? Perché questo tipo di carnagione A contatto col sole Produce un enzima Che fa andare più veloce il kart E quindi non c'è stata correttezza E ecco mi sa che è allergico alle stronzate Si Prova prova Dizi che sensazione provi adesso Ma Ragazzi È una bella sensazione Badacca È stata una bella gara Molto bene ragazzi mille È stata una gara sensazione Ed eccoci alla cerimonia per il campione Questa gara è stata veramente intensissima ma con forza e coraggio e determinazione e soprattutto con tanti documenti al Samwell si porta a casa questa gara signore e signori eccoci qua il campione lo fa per davvero ok va bene ragazzi io vi ringrazio per aver visto questo video ringrazio soprattutto Pier, Gabri e tutti quanti per essere venuti questa sfida questa bellissima challenge mi dispiace per il risultato però andrà meglio per la prossima volta quindi io vi ringrazio e ci vediamo in un prossimo video let's go bye bye no 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 no